Grazie 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 i gruppi, anche ringraziare il teatro del mondo della Grecia che è l'Alfa Vola Sala, ma non solo, anche dobbiamo ringraziare i nostri sponsor che è l'Alfa Romeo della Fiat Credi, anche l'Italia e l'Aereo di Salonico che hanno dato un contributo per fare questa serata. Signori deputati, signori sindaci, progettività di Arianna di Sanonico, e l'Unione Europea e l'Unione Europea e l'Unione Europea e l'Unione Europea in questa ultima fase di allargamento e di passaggio quindi da un'Unione a 15 a un'Unione a 25 Paesi. Signora, dice le bellezza, le bellezza, le reg � biologia, sono stati a 15 a 23 piani, e C'est trees? Sil вариант... Le regio le immagini sono le regni, a una rispettiva, Grazie. 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 Dopo volare che ci conosciamo tutti faremo un insieme di canzoni famosissime di Lucio Battisti. Grazie. 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 a colpito partiti, c'è emozioni e siccome inizio la voce per prendere la chitarra abbiamo bisogno di due secondi e mezzo. Grazie. 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 Ora editriamo tre brani cerebrini di Lennon McCartney, Michel di Yesterday e poi Hey Jude, tre canzoni che i Beatles hanno reso famose in tutto il mondo e per quello che ci riguarda i canzoni immortale ilo 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 ma i ma 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 Grazie a tutti. 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 a tutti.